Start, two, one, boosted ignition and liftoff! Sono andato nuovamente a provarlo e devo dire che è cambiato parecchio a partire dal menu, ha ancora i suoi aspetti molto grezzi quali i menu, quali il fatto che le impostazioni, purché ci lasciano una libera scelta, ci dicono che potresti avere dei problemi di un certo tipo se aumenti questo, se aumenti quello. E' stata aggiunta l'experimental mode che è una nuova modalità survival dove ci dobbiamo aspettare sicuramente dei bug, dove dobbiamo mangiare e bere, insomma è una cosa un pochino più tosta e un multiplayer che invece ci permette in un luogo molto aperto senza nulla di provare le auto insieme ai nostri amici. Ma continuiamo la mia partita perché vedete hanno aggiunto anche il food, drink and sleep, ma l'ho tolto perché è un po' fino a se stesso, nel senso che in negozio, adesso vi faccio vedere molto rapidamente, premetto questo è un video, lo ripeto ancora, non lo premetto, è molto veloce, dovremo mangiare e bere e dormire, onde evitare di far scendere la nostra vita e complicarcelo, insomma, oltre misura perché... Poi si inizia a camminare lentamente e poi c'è il game over, però al momento, calcolando anche la mole di contenuti che ci sono per ora, l'ho trovato abbastanza inutile il fatto di dover mangiare. Vi faccio vedere, vabbè adesso qua non lo vedete, ma in alto a sinistra ci sono i soldi che possedete e sotto ci sono poi delle barre che indicano la fame, la sete, il sonno e la vita. E qua potete andare a prendere patatine o acqua, solo questi al momento sono anche questi, anche i flakes, e poi ve li mette qui, li prendete in mano e li mangiate, c'è molto grezzo al momento. Qua non è cambiato granché, ma al tempo stesso l'officina è cambiata perché avete la possibilità di espanderla pagando 50.000, quindi far diventare... Questo garage è un doppio garage, con presumibilmente un doppio ponte, ci sono le solite missioni, sempre molto grezze, dove potete andare a prendere un lavoro alla volta. A volte il cliente non si presenta, quindi accettate un lavoro, ma il cliente non si presenta, quindi il lavoro sfuma. Sono state cambiate alcune cose interessanti, ad esempio adesso, avevo fatto il test precedentemente e non aveva dato un buon esito, adesso invece sì, se togliete l'olio e girate, il motore gira, ma dopo un po' vi spara i pistoni in aria, ed è realistica la cosa. Così come, questo mi ha ricordato molto Overwatch, un altro gioco che adoro, se togliete i tubi, magari per smontare la parte superiore, la testa del motore, magari cambiare la guarnizione, piuttosto che cambiare la catena, dovete rimettere il fluido. Il fluido, se non lo rimettete, non vi dà la missione completata, così come se voi lasciate delle viti non avvitate, il gioco vi paga meno, mentre invece se manca un po' più delle parti, non vi dà la missione completabile. Tra l'altro, il gioco attualmente, la mappa è questa, voi partite da qui, c'è questo ponte dove andare a testare, ho attivato anche l'impostazione di mappa extra, quindi va avanti oltre il ponte, ma in realtà fondamentalmente qua avete il vostro garage, avete il negozio, la gas station dove fare benzina, dove comprare gli utenzi di base, le candele e le lampadine, là si comprano le auto usate, qui c'è un deposito vostro per le auto e là in fondo vendono gomme, cerchi. E dei trailer, dei carretti, per portare le macchine in giro. Poi, questo cartello qui, adesso non mi ricordo se c'era, però in sintesi, dovunque lo posizionate davanti vi viene esponata la macchina che prendete in missione, quindi se lo mettete là davanti ve la trovate già sul carretto, sul carrioponte, cioè sul ponte e basta, insomma. Eccola roba lì. Molto interessante il fatto di pitturare l'auto, io adesso ho comprato quest'auto, la sto sistemando, vedete che il colore è un po' quello che è, perché la sto pitturando pian piano. Devo ancora capire come sistemarla, perché avete modo con questo flessibile, adesso che non so dove l'ho poggiato, eccolo qua. Col flessibile avete modo di mettergli due lame, la lama da taglio, quindi vi indicherà dei punti bianchi sulla carrozzeria da tagliare, e la lama della ruggine, dove potrete andare a, che si consuma, andare a eliminare le parti delle ruggine. Devo ancora capire come raddrizzare sta auto, però la sto, l'ho presa, l'ho pagata 8000, e potete andare pian piano a sistemarla, perché avrà delle parti, le parti rotte sono evidenti, perché le vedete arrugginite, quindi vedete che quel cavo lì non è messo benissimo, così come le sospensioni erano arrugginite e le ho cambiate, ma l'auto continua a pendere da un lato, devo ancora capire il motivo. La rimozione invece della, vedete, così, così rimuovete la ruggine, la ruggine l'ho quasi rimossa del tutto, potete andare poi ad acquistare la vostra, il vostro colore, la bomboletta di colore per colorare la macchina, la trovate qua. Cosa molto utile, potete anche andare a scegliere l'auto che dovete fare, e quindi vi dà i pezzi giusti per quell'auto, comunque io compro il colore, lo lascio così, così so che il colore è sempre uguale, se no potete andare a personalizzarlo. Prendete la bomboletta, clic destro, e andate a colorarla, vedete, adesso vi faccio vedere come vado a sistemare la parte che avevo tolto dalla ruggine, vedete, la pittura così, la colorate pian piano tutta. Ci sono delle parti ancora che devo capire come fare, vedete che c'è questa linea metallica che non c'è da questa parte, perché l'ho rimossa, c'è uno strumento che serve a, diciamo, staccare le parti, e l'ho rimosso, però devo sistemare tutta questa parte, devo capire se devo ricomprarlo o meno. Comunque la bomboletta non è eterna, dopo un po' finisce, volevo fare la rossa con la cappottina gialla, dovrò essere abbastanza preciso nel colorarla, ma prima cosa vorrei rimuovere totalmente il rosa, che non mi piace, più che altro sembra un'auto di un circo, e vedete che è molto bello anche i riflessi. Al momento, a livello di contenuti, beh, ne sono stati aggiunti, soprattutto ci sono cinque auto adesso, quattro o cinque auto, la bomboletta adesso è finita, quattro o cinque auto, gli strumenti sono sempre quelli, bene o male è stato aggiunto, però adesso vi faccio vedere. Se voi buttate qua, questa è la sospensione rotta, se la buttate ve li pagano, un dollaro, da uno a dieci dollari, la cosa più nuova. Qua avete la possibilità di saldare, quindi anche qui dovete prendere le punte, gli elettrodi, e piazzarli sulla saldatrice, vedete che le piazzate, vedete che lo potete usare, dopo ovviamente solo dopo il gioco vi lascia farlo. Qua potete caricare le batterie, ma lo strumento che non c'era una volta, dovrebbe essere questo, questo qua praticamente è molto figo perché vi permette di spostare i mobili, quindi voi prendete i mobili e li spostate. Adesso è caduto tutto a terra, ma volevo spostare questo mobile, e questo mobile io lo posso mettere ad esempio qui. Vedete che lo piazzo qui, metto via lo spostamobile e ho messo quest'area qua, in modo che qua faccio l'area per la zona dove si montano i cerchi sulle gomme. Cerchi sulle gomme che si vanno a prendere, si mettono qui, e poi si va a prendere la gomma e la si monta sul cerchio. Cosa che mi sa che si può fare, cliccando lì, e cliccando qua, lui mi monta la gomma sul cerchio. E poi possiamo andare a metterla via, insomma. Contenuti non ce ne sono tantissimi, oltre a diversi lavori, dai più complessi ai più semplici, quindi dal semplice lavami la macchina e ti do 80 dollari, che è quello che conviene di più, al cambio alla catena, dove dovete comunque smontare il motore un pochino più con attenzione. Non è complesso come un branch, quindi non dovete mettervi in tasca le viti, però a livello di esplorazione non c'è ancora molto. Io adesso per sfizio, per godermi un po' il gioco, ho deciso di sistemarmi in auto, in modo da averne una e portarmi in giro per la mappa, andare magari in discarica, perché in discarica, come vi stavo dicendo prima, mi sono probabilmente interrotto, qua in fondo avete la discarica, quindi dovete andare giù e andare qua. E lì potete staccare le parti dalle auto rotte e pagarli e portarli a casa. Quindi vi create voi una vostra storia, una vostra voglia di fare qualcosa, di ottenere qualcosa, di potenziare qualcosa e lo portate avanti. Il motore, vedete, lo sto rifacendo, anche questa è una cosa che è fine a se stessa, ma è molto bello vedere le parti che cambiano. Il motore era tutto, non era il motore di default di questa macchina di colore arancione, ma erano tutti arrugginiti. Quindi, ecco, questo era un pochino quello che volevo farvi vedere. È stato migliorato appunto quello che a me non piaceva all'inizio, cioè il fatto che comunque se avviate il motore, avviate il motore senza olio, andava lo stesso. Questa è un'auto automatica, tra l'altro, che non mi fa impazzire. Però vedete che gira tutto. E se un'auto si surriscalda, voi potete, col cliente, ve lo porta, insomma, e la provate. E a volte non capita neanche subito, dovete fare dei lunghi giri, però vedete che effettivamente la... la... insomma, non era a fare d'abbastanza. Se io togliessi la cinghia, adesso questa non è una cosa realistica, perché ci rimetterei le dita, cosa succede? L'auto resta accesa, perde potenza, e vedete che si accende la spia dell'alternatore. E questa è un'altra cosa, le missioni dove c'è l'alternatore non funzionante, voi potete andare in giro lo stesso, però avete comunque la batteria che non viene caricata. Quindi è uno spettacolo, adesso vabbè. E' semplificato, quindi la possiamo rimettere a motore acceso, e tecnicamente adesso basterebbe spegnere e riaccendere per far andare tutto a posto. Infatti tante volte cambiate una cosa, vedete che non c'è più la spia. A volte spegnete e riaccendete, insomma, o cambiate una cosa a un cliente, e vi parte, insomma. Non c'è il motore fuori fase, quello non c'è, fortunatamente perché... Mi aveva importato un motore con la catena da sostituire e non si avviava nemmeno, e aveva rifatto dei danni immensi, fosse stato realistico il 100%. Però vabbè, l'ho aperto, ho cambiato la catena, ho chiuso tutto, l'ho acceso, andava. Bene, fine, messa via. Quindi, gioco assolutamente promosso. Questo è il terzo video, dopo un video, una live e un altro video ancora. Sta crescendo bene, molti contenuti arriveranno, e lo aggiornano spesso. Quindi, se vi è piaciuto My Summer Car, se non siete stati completamente soddisfatti da Car Mechanic Simulator, che io stesso ho finito, cioè ho finito, non ho finito la storia, ma ho sbloccato tutto, e non ha più ragione di essere giocato per me. Vi è piaciuto Branch, vi è piaciuto, appunto, altri giochi tipo Junkie Simulator, insomma, cose del genere. Questo è, senz'altro, il gioco che fa per voi. Nella sua, non definire semplicità, ma nel suo relax. Di mettervi lì, salite sulla macchina, la caricate sul ponte, posizionate il ponte, sollevate, date un'occhiata, vi organizzate col vostro tempo, la vostra calma, non corre dietro nessuno, anche la fame e la sete scendono poco, cioè di pochissimo, quindi non è neanche un impedimento quello, infatti non avrebbe senso sviluppare un po' questo aspetto, rendere un po' più la vita privata. In giro per il mondo, poi potete esplorare, ci sono dei rottami che potete recuperare, infatti i carretti vengono venduti anche per quello. Spero, abbiate gradito il vostro, cioè questo aggiornamento, insomma, e se qualcuno di voi ha avuto il coraggio di vedere questo video, anche possedendo il gioco, e sa dirmi come sistemare questa parte qui, ve lo faccio sapere che io lo ascolto molto volentieri. Ragazzi, questo è un filtro da buttare, vedremo se lo pagheranno un dollaro, forse meno, un dollaro, sì. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima, ciao ciao!